Roma torna a un processo di distanza, mancano 46 secondi, tra l'annito che c'è la scanna contro l'Unica Vitali, sarebbe possibile non commettere soldi, se l'avete che fa qualcosa da spalla su Giovi Thomas, lo scelto da tre punti, l'è di Jean-Cangour che molto probabilmente mette in cazza forte la partita.